Mi fate passare, perché fai quella faccia, George? È uno scriccioletto, strilla come una guaglia. Fai paura. Strilla come una guaglia, una cosa incredibile. Come una guaglia, per dire delle cose che... Le guaglie non strillano. Ah no, vabbè, ora mi sono sbagliata. Comunque uno scriccioletto ha una voce assurda, perché non si capisce. Mi appoggio perché me ne va appoggiare. Vabbè, c'ha già avuto problemi con la legge perché è volgarissima, dice delle parolacce in vere conte, veramente. È una cosa insostenibile. Comunque, sono qua con George, ancora in 99 posti. Sono grandissimi, eccoli qua. Purtroppo, purtroppo, loro ne sono consapevoli. Da come lo si vince dalla loro canzone, è inutile spiegarlo con parole, è vero? Da questa occhiusa si capisce che purtroppo sono napoletani pure loro, è vero? È una brutta responsabilità, ma qualcuno se la doveva pur prendere. È uno sporco lavoro, ma qualcuno deve pur fare. Grandissimi, non ho fatto la proposta. Allora Michele, ripasso la linea e che Dio ce la mandi buona. Un bacione a dopo, ciao Michele! Ciao!